Pensiamo che sia una risposta importante a un bisogno del territorio dato che abbiamo contatto con tante aziende, abbiamo ricevuto tanta richiesta di diplomati specializzati quali nostri e pensiamo che così si possano invogliare e interessare persone a riprendere o iniziare il percorso per arrivare a un diploma di tecnico industriale, chimico e informatico nel nostro caso, che poi avrà una ricaduta diretta nel territorio in termini di lavoro specializzato. L'idea di lanciare corsi di studio nasce dalla grande richiesta di informatici e chimici e così l'ITIS Galileo Galilei di Arezzo si apre al serale. Si tratta del triennio dei corsi di informatica e telecomunicazioni e chimiche materiali. Quindi si potranno iscrivere tutti i lavoratori che hanno abbandonato gli studi in età giovanile oppure anche i ragazzi di età superiore ai 16 anni che si sono ritirati dalla scuola. Quindi i primi due anni il biennio dovrà essere svolto presto i CIPIA oppure avranno già maturato nella carriera scolastica i due anni di istruzione obbligatoria. E da noi poi si completerà il percorso di studi fino al diploma, quindi il triennio in questi due indirizzi. I corsi partiranno a settembre e ci si può iscrivere a partire dal 18 gennaio. L'orario è di 30 ore con le stesse materie della mattina eccetto scienze motorie e con la possibilità di svolgerne circa il 20% da remoto al fine di favorire gli studenti lavoratori. Le lezioni invece sono previste dalle 18 alle 23. Purtroppo anche il nostro territorio è affetto dall'abbandono scolastico e per quanto riguarda le statistiche dei NIT siamo ampiamente sotto la media nazionale ma leggermente sopra quella regionale. Quindi dobbiamo darci da fare sicuramente di più e queste sono iniziative che vanno nella giusta direzione.